Offrirà cure palliative nelle fasi più avanzate della malattia, garantendo un adeguato supporto psicologico sia al paziente che alla sua famiglia. Nasce nell'ex ospedale di Minervino Murge, l'ospis Carol Voitila, struttura di accoglienza e ricovero dotata inizialmente di 12 posti letto. All'inaugurazione ha preso parte il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ma non il sindaco di Minervino, Lalla Mancini, in polemica con il governatore a causa del progressivo impoverimento dei servizi sanitari offerti alla sua comunità, penalizzata dalla chiusura dell'ospedale e poi del punto di primo intervento, con pesanti ripercussioni sull'assistenza sanitaria medica di urgenza. All'ingresso dell'ex nosocomio anche la contestazione di alcuni cittadini. Abbiamo pronto soccorso, abbiamo un pipì, questo ospedale è stato chiuso da altro presidente, io lo sto a riaprire. Eravamo tenuti ad applicare delle norme, questo il sindaco lo sa, dopo la purtroppo decisione, devo dire allora non motivata da provvedimenti di legge, perché quando il presidente Fitto chiuse questo ospedale, bene che il sindaco se lo ricordi, lo fece non perché obbligato, ma fu una decisione che ovviamente io rispetto assolutamente e che probabilmente aveva preceduto ciò che poi sarebbe diventato obbligatorio per legge, perché poi il presidente Vendola ha chiuso e convertito altri ospedali, noi stiamo convertendo queste strutture in altre funzioni che hanno però un'importanza enorme e sono equivalenti. In ogni caso qui ci saranno medici, ci saranno infermieri, ci sarà terapia del dolore, ci saranno psicologi, ci saranno tantissime persone che lavoreranno e faranno diciamo così, daranno onore alla città di Minervino, insomma. Difende la nascita dell'ospis anche il direttore generale della ASLBT, Alessandro delle Donne, una struttura di cui si sentiva fortemente la mancanza, spiega e che offrirà conforto e speranza a tante famiglie in difficoltà. È un reparto in cui si fanno prestazioni di cure palliative per malati in stato molto avanzato e particolarmente delicati. È un luogo anche in cui però abbiamo voluto costruire un percorso di raccolta di intimità anche spirituale con i familiari, quindi è un luogo in cui la famiglia si sente particolarmente vicina al proprio parente, al proprio paziente, al malato, in un momento difficilissimo della vita non soltanto del malato ma anche dell'intero contesto familiare. Dispiaciuto per le polemiche che hanno accompagnato l'inaugurazione della struttura, delle donne assicura massima attenzione alle problematiche di questo territorio. Fra un mese finalmente partiamo anche con la progettazione per la ricostruzione del nuovo reparto dell'ospedale di comunità che è qui vicino a fianco a questo ospedale. Abbiamo anche avviato e implementato la rete della specialistica ambulatoriale con ben 50 ore di specialisti in più che stiamo anche contrattualizzando. Fra poco parte anche la gara e fra qualche settimana la giudichiamo, speriamo che vada bene ovviamente perché le gare seguono un percorso di evidenza pubblica il cui esito non è sempre scontato per l'assegnazione di una ulteriore ambulanza e quindi stiamo manifestando la nostra più ampia vicinanza, attenzione a un territorio molto articolato non soltanto da un punto di vista orogeografico ma anche sotto il profilo epidemiologico e statistico.